Benvenuti, benvenuti, cari amici, siamo Viti di questo nuovo video Naturalmente, come sempre, ricordo di suggerire il like, di iscrivervi il canale, iscrivervi anche il canale di Telegram Oggi potrebbe essere letteralmente una giornata storica perché potrebbero arrivare gli ETF su Ethereum Andranno a vedere il tutto all'interno di questo video Attenzione a Pepe perché sta continuando ancora la sua corsa Ovviamente andranno a vedere anche quello che sta avvenendo sui meme E per cui iniziamo subito Per cui andiamo subito a vedere quello che sta avvenendo su Bitcoin In questo momento prezzo di 69.749 dollari Ottima le action per quanto riguarda Bitcoin Stiamo mantenendo quasi livelli di 70.000 dollari E attenzione ragazzi perché quella di oggi potrebbe essere letteralmente una giornata storica Potrebbe essere approvato, ok, l'ETF su Ethereum E questo potrebbe far skyrocketare ovviamente Ethereum, ok, per prima cosa ovviamente Ma non solo anche Bitcoin e tutto il reparto al coin Dopo voglio mostrarvi anche quello che sta avvenendo sui giornaliero per quanto riguarda Bit Perché io qua ho visto un bellissimo double bottom in zona 69.000 dollari Quindi attenzione, nel senso Per chi sta tradando o andrà a tradare oggi Potrebbe essere una giornata molto interessante In particolare non sapremo, ok, a che ora sarà approvato l'ETF spot su Ethereum E se sarà approvato Questa è la prima cosa Però cercheremo di capire proprio in questo video Circa l'orario, ok, nei quali potrebbe arrivare l'approvazione Perché se andiamo a vedere i precedenti tweet Più in particolare quando era stato approvato Bitcoin La notizia era arrivata Prima di me verso le 3.45 Ok, 3.45 In particolare Orario americano in New Jersey Che erano le 21.45 italiane Quindi potremmo, secondo me, entro le 22 Vedere una notizia positiva Ok, questo è quello che mi aspetto Ovviamente io non sono dentro al SEC Quindi ragazzi non so dirvi se la proveranno o meno Però sembrerebbe che il sentiment comunque sia fortemente positivo Che in questa fase di mercato Addirittura c'è chi afferma come James Seifart Che potrebbero essere approvati 5, ok, ETF su Ethereum Da parte dei, ovviamente, grossi istituzionali Fidelity, Vanek, Invesco Franklin Quindi attenzione ragazzi Perché oggi dobbiamo stare sintonizzati E vedere quello che succede Almeno fino a 22 Quindi ragazzi Oggi si lavora E noi saremo qua, ok? Ovviamente per aggiornarvi Ora, voglio mostrarvi Quello che sta comunque combinando Ethereum Nel senso che Ethereum Anche sul daily sta continuando a spingere E proprio se andiamo Se andati in zona double top A 3.840 Soprattutto per chi sta tradando Interessante Che andare a considerare questo Secondo me in caso di rottura Dei 3.840 Il prossimo target potrebbe essere Un double top In zona 400 Ora, c'è chi dice che addirittura La notizia dell'approvazione ETF Potrebbe riportare Ethereum All'ulta mai di 5.000 dollari Secondo me ragazzi Andiamoci calmi Però nel senso Non è che abbiamo l'ulta mai lontanissimo C'è circa un 30% Ok? 30-35% Quindi attenzione E sui intergiornati di oggi Potrebbe essere molto molto interessante Anche perché Vorrei ricordarvi Come Ethereum Praticamente dal confronto Ok? Con Bitcoin E' ancora altamente sottovalutato Siamo sotto di tutte le medie mobili Sotto di tutte le medie 200-150-20 periodi Ok? E vediamo che c'è questo supportone In zona 5 centesimi Che ora insomma E' stato bello Ok? Ipato E abbiamo Diciamo Degli ulti mai relativi Per questo 2024 In zona 7-8 Quindi attenzione Perché Ethereum Potrebbe rubare tanto Ok? Nei confronti di Bitcoin Soprattutto andarsi a prendere Una fetta Addirittura un 42% Addirittura andarsi a prendere Una fetta molto importante Ok? Del reparto Della capitalizzazione Del mondo cripto E soprattutto Parte Ok? Di Ethereum Poi la sua capitalizzazione Potrebbe essere Girata sull'Alcoin E così Innescare un high season Devastante Questo è quello che mi aspetto Ora Prima di vedere Un attimino Il setone meme Che ovviamente a noi ci piace Perché ci piace Perché Quando il mercato pompa Gli high risk pompano ancora di più Ok? In sostanza Quindi Io ti invito Se vuoi pompare anche tu Gruppo Cowboy Però è dato Quello gratuito Andiamo a vedere il tutto Però Prima un attimo Andiamo a vedere Binks Perché ragazzi Binks sta dando Veramente promo pazzesche Ve li ricordo ancora una volta Ve li rinfresco 50 dollari Se ti registri Con KYC Ulteriori 50 dollari bonus Depositi almeno 30 dollari Superiore Che i 3000 dollari Di USDT Di Trading Volume Ulteriori 50 dollari Quindi ragazzi C'è qua Vi potete portare a casa Addirittura Fino a 4000 dollari bonus Chi riesce a tradare 5 milioni Complimenti Però insomma Se avete portafogli grossi Lo si può fare Addirittura vi danno 3000 dollari Quindi Se vuoi sostanere anche il canale Link sotto in descrizione E insomma Vai Ti iscrivi e tradi Ok? Questo per quanto riguarda Binx Ora andiamo a darci un attimo Il settore in meme Perché ragazzi Il settore in meme Sta pompando di brutto Ottima la action Siamo arrivati a 63.5 miliardi Quindi secondo me Siamo ancora sottovalutati Però fino a due settimane fa Avevano 50 miliardi Quindi vediamo Un più 30% medio Diciamo che Pepe Sta guidando letteralmente Questa meme season Insieme a Bonk Più 36% Sul settimanale Bonk Più 32% Hai detto Raccorgi Va a fare il 100% Sul settimanale È pazzesco Insomma Stiamo vedendo delle belle Ragazzi Perché Il settore in meme Sta rispondendo Più che positivamente Che in questa fase di mercato Anche Doge Sta riprendendo La zona di 17 centesimi E volevo andare a vedere Con voi Pepe Perché Siamo in volta mai Ok siamo letteralmente Sky Rockets 6 miliardi di capitalizzazione Veramente Un Pepe Che non si sta Fermando E io le ho detto Ragazzi Se arriva la notizia Dell'approvazione Di Scusate Di ETF Su Ethereum E vi ricordo Che Pepe Gira su Ethereum Pepe Avrebbe fatto Sky Rockets Ora L'abbiamo visto Nel senso che Pepe Sta facendo numeri Guardate qui Volumi per 2 miliardi Insomma Volumi Veramente pazzeschi Pepe Letteralmente Sky Rockets Secondo me Può continuare Ok senza problemi Ovviamente Ma lì durante il tragitto Ci saranno Pump and Dump Un classico Ok per quanto riguarda Pepe Però attenzione Perché siamo letteralmente In Sky Rockets E soprattutto Per quanto riguarda Pepe Ci sono stati Dei tweet Secondo me Molto interessanti Nel senso Questo è il primo Perché la Casa Bianca È andata a provare Questo Fit 21 Praticamente un crypto bill Che Praticamente legalizza Ok il mondo crypto Negli Stati Uniti Non che fosse illegale Però Gli dà ancora Diciamo maggiore Maggiore valenza Ok Entrano gli Stati Uniti Potremmo così definirla Poi c'è anche stato Questo lì In su Nexo Non è che Pepe Ce l'aveva bisogno Però È un motivo in più E quindi Pepe Sta continuando la soccorsa Dopodiché Voglio andare a vedere Anche quelli che sono I meme su Rete Solana Che insomma Sta pompando E la Rete Solana Anche qua Siamo in oltamai Siamo in oltamai Ok per quanto riguarda Meme Solana 9 miliardi Nonostante abbiamo Un dog with hat Comunque sotto Ok rispetto all'altà mai Vi ricordo Sui 5 dollari Siamo appena a 3 dollari Quindi WIF secondo me Altamente sottovalutato Ma chi sta facendo bene Sta spingendo È Bonk Ok più 32% Sul settimanale Quindi andremo a vedere Bonk Andremo a vedere Anche Book of Meme Che si sta riprendendo Molto molto bene E diciamo che Il fatto anche Che la capitalizzazione Dei meme Solana Si sta salendo Perché c'è stato Ovviamente Un aumento Del prezzo Un aumento Da domanda Di insomma Beni Chiamarli beni Però potremmo chiamare Di questi asset Che potremmo chiamarli così Anche se So che in molti A finanza tradizionale Diranno Ma che asset Sono questi Ragazzi con questi Si fa i numeri Ok dal mio punto di vista E Quello che vorrei dirvi Però sta aumentando Ok i numeri di crypto Quindi ovviamente Anche questo comporta Una maggiore capitalizzazione Ora andremo a vedere WIF Perché WIF Bellissimo supportone In zona di 2.40 Ora sono 3 dollari Quindi secondo me WIF Vincerà anche Sua mani basse Riprendere la zona di 5 dollari Secondo me Sarà più che fattibile Quando saranno In pieno bull market Bome No scusate Bonk Sta letteralmente Scherocchettando Vi ricordo Oltamai Di Binance Addirittura A 5.000 Adesso siamo A 3.5 Quindi ottima Anche qui l'action Da parte di Bonk Che insomma Secondo me Anch'esso Vincerà mani basse E allo stesso modo Anche Bome Bome Secondo me È più sottovalutato Nel senso L'ho detto L'ho detto già più volte E sta facendo bene Ovviamente Noi all'interno Il gruppo cavo È già 70 strategia Non solo su Bome Anche su altri meme Che ovviamente Nei video Non vengono detti E tra l'altro Poi viene Tirare a fondo Un altro Che ha fatto numeri Pazzeschi Ok Un gatto di Solana Sta facendo numeri Letteralmente Pazzeschi Bome Secondo me Ha i 18 Quindi vedremo Un po' Quello che succederà Ovviamente Dopo i 18 Ragazzi Dovete avere una strategia Nel senso Perché Pericolo che poi Bome Prenda scarichi Diciamo Elevato Però attenzione Bome Perché sta facendo Molto molto bene Potrebbe essere Appena all'inizio Dopo Volevo stare Anche Solana Perché ovviamente I meme Solana Dipenderanno Molto Da quello Che combina Solana Avete qui Che scaricone Ha fatto Solana Io l'avevo detto Secondo me Questo era un ottimo By the dip E meno 43% E secondo me Solana ora è pronto Pronto a rompere I 206 E dopo potenzialmente Potremmo andarci A prendere l'olta mai In zona 250 dollari Sarebbe bello Anche vedere Se Sia Solana Che Ethereum Andranno a rompere L'olta mai In contemporanea Sarebbe veramente Un qualcosa di Secondo me Interessante Ok Da andare a vedere Quindi Secondo me Non manca tanto Ok Siamo in pieno Bull market E insomma Stiamo appena vedendo Ok I frutti Di quello Che è stato un bear market Letteramente devastante Ma vi ricordo Che i soldi Si fanno proprio In quei momenti Ok In cui si sette la strategia Dopodichè Vorrei andare a vedere Anche Solana Contro il bitcoin Che insomma Si è ancora sottovalutati Perché abbiamo i massimi Comunque in zona 42 Ma soprattutto Guardate qui Che cosa abbiamo trovato Dentro il gruppo cowboy Abbiamo trovato Questo meme Ok Questo gatto Dal nome Cock Ok Cock the cat Ovviamente Non sono le cose Fianze E così trading Però noi ragazzi Stiamo facendo Un numero di pazzeschi Ok Su questa coin Ora Non è che vi dico D'entrare Anche perché siamo Esposti Ok In questa fase di mercato Abbiamo avuto Un bene hype Ora abbiamo preso Il 32 Però ragazzi C'è già gente Che ha fatto anche 6x Ok Dentro il gruppo cowboy Con questa coin Quindi Io ve la segnalo Ovviamente Noi dentro il gruppo cowboy Abbiamo una strategia Ti ricordo Che se anche tu Vuoi migliorare Quelle che sono Le tue conoscenze Interno del mondo crypto Vuoi iniziare Su un buon strategia Vuoi trovare coin Come ti ho appena mostrato Ad esempio Cock Che veramente Capitalizzano pochissimo E potranno fare numeri pazzeschi Così viene anche a conoscere La nostra strategia Ti ricordo Prenota Ok La tua call gratuita Ormai ne lo dico Nemmeno puoi Perché ragazzi Siamo inondati E voglio gente focalizzata Ok Dentro che ha obiettivi Veramente grandi Quindi ti dico Prenota La tua call gratuita E noi ci vediamo Al prossimo Video